buongiorno a tutti in questo brano di giovanni a me ha colpito l'espressione io non lo conoscevo lo dice due volte e mi ha fatto pensare che a volte ci capita anche con le persone che amiamo frequentiamo che ci sorprendano dicendo o facendo qualcosa che non ci aspettiamo e quindi è come se ne conoscessimo per la prima volta come se non avessimo mai veramente conosciuto appieno e quindi diciamo mi viene in mente che Giovanni ci ricorda di non dare mai scontato Gesù nell'immagine che ci siamo fatti di lui io invece forse per deformazione professionale sono rimasto fermo sulla parola tempo c'è questa frase difficilissima da leggere dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me che come dire viene un uomo al quale il tempo fa un baffo che è più grande del tempo che non ci sta nel tempo noi viviamo un tempo piccolino e Giovanni ha trovato qualcuno che dominava il tempo e infatti non sapeva chi avrebbe trovato che è stato rivelato in qualche modo dentro il tempo ha ricevuto una parola che gli ha detto tu farai questo incontro anzi si dice che questo fosse già vero prima ancora che lui nascesse per cui questo tempo che ci dà l'occasione per conoscere le cose come come ha detto la Valeria mi ha fatto riflettere questo che ci permette di fare degli incontri che non avevamo fatto prima ma è qualcosa che possiamo guardare con un grande ottimismo a partire dalla giornata di oggi il tempo non è il nemico non è quello che ci fa invecchiare il tempo è pieno di occasioni è pieno di possibilità di conoscere non passa un giorno che non si conosca una cosa buona e quindi cogliamo quest'occasione di questa giornata che passa sotto impulso del grande Giovanni Battista e facciamo buon uso del tempo buona giornata e grazie grazie